Salve gente, bentornati su Dimo, è tantissimo che non registro un video e non avete idea di come sto registrando questa cosa Ho un software che mi registra l'audio del gioco, uno che registra la mia voce, è un casino raga, è un casino E quale è il metodo migliore per ricominciare se non provare canzoni che proprio non ho mai fatto? Eh? Che bello eh? Allegria Oh mio dio Direi decisamente questo Con una livello 10 dentro Lo acquistiamo subito Ale Ops Non so se verrà a fuoco questo video ma non ne ho idea Non me ne sto proprio preoccupando Il pagamento è riuscito Ale No cosa sto facendo? Cosa? Cosa sta? Fermati Indietro Salve Non so neanche se sto registrando tutto E' un caos E' un caos oggi Ho il panico nelle mani E' la prima volta in assoluto che faccio questa cosa Ho giocato a Sidus ma non me le ricordo assolutamente Di certo non l'ho mai fatta in Dimo No 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 Grazie a tutti. 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 Oh mio Dio. Non so se si vede il tremore delle mie mani. Oh mio Dio. 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 Mi sono distratto. Oh mio Dio. 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 Oh mio Dio.